Meno gente rispetto agli anni scorsi, anche se alla quantità ha fatto da contraltare la qualità e la certezza che, per rappresentare i non pochi problemi che affliggono il commercio in città, le associazioni di categorie storiche non bastano. Di qui l'impegno ad associarsi in forma autonoma per tutelare i propri interessi. E' il messaggio recapitato da Antonio Ventre, rappresentante degli esercenti del Centro Storico di Salerno, nel bilancio per i commercianti dopo le luci d'artista. Non c'è nessun tipo di aiuto su questo punto di vista. Per quanto riguarda l'evento luci d'artista ormai siamo alla dodicesima edizione, se non erro. Quest'anno c'è stata molto meno gente rispetto agli anni scorsi. Si è abbassata la quantità, però sinceramente si è alzata la qualità, perché abbiamo potuto lavorare con più tranquillità. Con quella calca del sabato e della domenica non porta bene, se non a chi lavora nel settore food. Contando quella città non è solo bar e ristoranti, ci sono anche altre attività. Servirebbe però un punto di riferimento dove poter rapportare idee, proposte, criticità da parte di chi tutti i giorni alza la strada cinesca e fa fatica a trovare anche una direzione giusta. Ma proprio per questo cinque anni fa nacque la nostra associazione, per dare voce a chi realmente sta in trincea tutti i giorni e snellire il rapporto tra operatori del settore e amministrazione, perché spesso non si riusciva a dialogare con l'amministrazione.